Ma qua ti stavi riferendo allo youtuber Pasolini o al reale? Youtuber. Quindi al reale? Sì, al reale. Hello, Closhard! Abbiamo un grandissimo ospite. Benvenuto, Linton! Grazie, grazie. Sono molto contento di stare qua con voi. Qualcosa buona non comincia finché c'è un problema. Quando tu riesci a fare qualcosa di differenza, è quando è un momento più, diciamo, difficile. E c'era questo giocatore, si chiama Ronnie Latt. Lui stava giocando con una squadra San Francisco 49. E lui ha vinto quattro anelli, no? Lui stava in finale. C'è un'azione che lui ha rotto il suo mignolo. E stava in panchina. Il medico stava dicendo, guarda, per rientrare tu devi andare all'ospedale. Mi dice, ma è rotto, non puoi. E lui ha detto, no, 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 devo giocare. Lui ha detto, no, no, che stai? No, il medico ha detto, l'unica opportunità che tu hai per entrare, io devo tagliare il tuo mignolo. E lui ha risposto, tagliela. Perché io devo fare qualsiasi cosa per entrare a giocare, ok? E non un garanzia che tu puoi vincere quando tu vai dentro. Devi ancora dimostrare che tu sei qualcuno forte. E quando ho visto che video, in questo momento io ho detto, guarda, tu devi get in the game in qualsiasi momento. Se è difficile, se è piove, se qualcuno sta parlando male di te, se tu hai influenza, se tu hai febbre alto. Oh, perché chi ne ne frega? È come questo, quando qualcuno dice, come stai? Honestamente, ma tu, te ne frega? Ma you care? Nobody cares. Vai dentro. Taglia! Io mai, mai ho pensato c'è qualcosa che non posso fare. Io ho sempre detto, guarda, sono sicuro, arriverà momenti difficili, che io soffro. E tutti devono capire, ma siamo fatti per soffrire. Siamo fatti per cadere. Io uso questo esempio, che tutti sono come te, no? E quando hai un pacchetto di te, non è niente, non c'è gusto, finché vai dentro acqua calda. E quando tu vai in questa acqua calda, esci dal tuo carattere. L'obiettivo, dobbiamo provarci. Dobbiamo get in the game. Ronnie Lott stava fuori e ha detto, no, tagliala per andare, ok? Perché qualcuno deve soffrire. Il mondo è speciale. Quando tu rimani sul tuo percorso, vai a pensare, parlare, fare la stessa cosa, apri le porte, automaticamente. Però devi soffrire, non devi nascondere dei momenti difficili. E anche lì, io ricordo quando ho girato mia caviglia, un momento difficile. Che fai? Ah, non posso giocare. Tagliala. Trausate. We don't go down. E così, questa è... Tagliala. 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 Ogni persona è unico, unico. Quando io faccio qualcosa, oh, non che io, no. Io sono una persona speciale nel mondo che sto facendo. Quando io cammino, oh, testa alto perché non c'è nessuno come me. Ogni giorno c'è un passo per essere meglio. Ogni giorno devo andare a dormire. Io sono più forte adesso di quando io ho svegliato. Però il discorso è che dobbiamo nascere ogni giorno. Io non posso prendere qualcosa di negativo da ieri e entra un nuovo giorno. Perché ogni giorno è un nuovo gioco. Grazie a tutti.